Sai cos'è una tavolozza o una palette? È la selezione di diversi colori fatta per esprimere un determinato concetto. E sì, perché i concetti possono essere descritti semplicemente dall'uso di un colore piuttosto che di un altro. Vediamo insieme alcune palettes. Questa è una palette golosa, richiama subito al mondo delle caramelle. Questa è una palette casual, un po' country. E infatti richiama proprio a quei colori. Una bella palette botanica. Che ne dite di una palette delicata? Oppure la mia preferita, una bella palette tropicale. E allora, seleziona la tua palette per mandare nel migliore dei modi il messaggio che vuoi inviare.